Siamo già in onda quindi Salve amici Continuiamo il nostro itinerario nella New York Stiamo sprofondando come le rane Come dicevo nell'altro servizio con me Da quel servizio sono passate due settimane Oggi è l'otto giugno E continua a piove Sentite Abbiamo anche la testimonianza che non mi stiamo dando una bufala Perché il cartello C'è il weekend sportivo di ieri Mentre domani, oggi Domenica Vedete Germania e Polonia Quindi vuol dire che sono iniziati gli europei in Svizzera nel 2008 Con un buon caffè Bruciato Buon Asterix Il vecchio Asterix Io lascio alle immagini E sto zitto Sentiamo questo leggero sottofondo Ma sentiamo un po' di miti Sì dai Sì dai Sì